È durato 5 ore l'interrogatorio di Taulant Pascio, indagato per l'omicidio dei coniugi Spetim e Teuta, fatti a pezzi e ritrovati in quattro valigie nei pressi del carcere di Sollicciano a Firenze nel dicembre del 2020. L'uomo che si trova nel carcere di Como si è dichiarato estraneo alla vicenda. Dal racconto del suo legale, Filippo Vigiano, Taulant avrebbe saputo della sparizione dei coniugi da Elona Calescia, sua ex fidanzata, una volta uscito dal carcere fiorentino nel 2016. La donna, anche lei indagata per lo stesso omicidio, insieme al fratello Denis, gli avrebbe detto che i Pascio si sarebbero allontanati a causa di una lite che coinvolgeva la sorella di Taulant, Vitore, per una sua relazione con un uomo che i genitori non consideravano adatto alla figlia. Nel corso degli anni, Taulant avrebbe cercato i genitori attraverso i parenti in Albania, loro paese di origine, senza però alcun risultato. Inoltre, i rapporti con le sorelle, Vitore e Dorina, incrinati da tempo, non avrebbero favorito una collaborazione nelle ricerche. Durante l'interrogatorio sarebbe stato citato anche l'appartamento di Via Fontana, a Firenze, dove gli inquirenti sospettano che siano avvenuti gli omicidi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Elona lo avrebbe affittato per i coniugi, per la difesa all'insaputa di Taulant, che ne sarebbe venuto a conoscenza solo dopo il ritrovamento dei corpi e il proseguo delle indagini. Si cerca di dare un nome a chi ha ucciso la coppia, la traccia certa al momento resta il DNA maschile trovato nell'appartamento e sulle valigie, ancora in attesa di comparazione con quello degli indagati. Si muove anche la difesa di Elona Calescia, se resterà o meno in carcere, lo deciderà il Tribunale del Riesame il 31 agosto. Dopo l'impugnazione del provvedimento da parte dei legali della donna, la richiesta resta la stessa, sostituire l'arresto in carcere con i domiciliari.